Chiusura in forte rialzo per Piazza Affari con l'indice guida Futsimib che termina a più 1,89% a 20.831 punti. All share a più 1,71%. Mercati europei galvanizzati dalla tregua annunciata in Ucraina. A Piazza Affari vola Mediobanca, più 4,14%, seguita da Tots, più 3,75% ed Enel, più 3,5%, nel giorno in cui il Premier Renzi ha frenato sul piano di cessione delle quote detenute dal Tesoro. Bene anche Saipem, più 0,85%. Segno negativo invece per Telecom Italia, a meno 0,12% mentre Sprofonda Safilo, meno 25,7%. Chiusura stabile a 151 punti per lo spread tra BTP e Bund decennali con un rendimento al 2,46%. Quanto al differenziale tra Bonus e Bund si attesta a 132 punti con un tasso del 2,28%. Vittorio